Manager Asla Scaduti che firmano delibere illegittime. Lo denuncia il gruppo d'opposizione regionale di Forza Italia. Il capogruppo ed i consiglieri annunciano di voler scaricare dai siti internet gli atti approvati nell'ultimo mese dai direttori generali non più in carica e nemmeno rinominabili in quanto pensionati. Un nucleo tecnico di valutazione passerà ai raggi X i provvedimenti, dopodiché presunti anomalie e irregolarità saranno acquisite in un fascicolo da inviare alla magistratura. Nel mirino le nomine di primari e dirigenti medici, gli avvisi pubblici, le gare di appalto. Nella Asla Bari ritiene Forza Italia la situazione più grave. Insostenibile osserva Zullo assistere alla prosecuzione del lungo ciclo clientelare e della sanità governata dal centro-sinistra. Di qui l'appello al presidente Vendola provveda subito alle nomine dei nuovi direttori generali e assegni obiettivi chiari al sistema sanitario che appare ormai allo stremo. L'epilogo inglorioso attacca congedo di una stagione di governo che ha affossato la sanità e che ai cittadini è costato 1,8 miliardi di euro di tasse aggiuntive.